Siamo insieme a Jacopo Zazzaro, portiere del Cregas, dopo una grande vittoria della squadra contro la capolista Monterosi. Jacopo, si pensa sempre ai gol che si fanno, ma il rigore che hai parato vale quanto vuole? Sicuramente parare il rigore è sempre una bella soddisfazione anche per la squadra, però comunque non bisogna mollare mai e essere concertati fino alla fine. Infatti basta stare concertati fino alla fine in questa partita, è stata molto difficile. Qual era il tuo stato d'animo prima della partita e qual è invece quello di adesso? Prima della partita io di solito sono sempre tranquillo, penso sempre in positivo, cerco di fare cose semplici come oggi, anche perché le condizioni atmosfere del vento non erano delle migliori e quindi sono stato un po' sulla difensiva oggi e non ho rischiato. Speriamo bene che si faccia bene fino alla fine. Cosa ha significato quell'abbraccio a fine partita della squadra? Quello sicuramente per festeggiare, per rimanere in gara fino alla fine del campionato e fare bene. E' stato un momento di fomento tra di noi per scaricare tutta la pressione che c'era anche in settimana per preparare questa partita. Dove vuoi arrivare secondo te il credo? Sicuramente puntiamo in alto e non si sa mai, il campionato è ancora lungo e speriamo di fare bene tutti quanti, da prima all'ultimo. Grazie a tutti. A vederci.